Il giorno 17 noi avremo un convegno che lo faremo al castello Chiaromontano, è un convegno dibattito che è sulla legalità e sull'adeguazione dei bambini, quindi interesserà i genitori, i bambini, il personale scolastico, il personale docente e tutto il resto. Poi nel centro ricreativo, sempre con l'appoggio del comune, avremo delle preazioni di un cartone animato che poi sarà commentato, si giocherà intorno con i bambini, intorno a dare sempre un significato, un valore. Poi ci saranno delle serate di giochi ludici, ci sarà una tombolata, una serata quadenzante e ricreativa, poi l'Auser sta organizzando una mostra di oggettini, di manufatti antichi qua in via Lucchesi. Ragazzi di Naro, Volonterose, sempre parliamo al regime di volontariato, al regime di cuore, faranno una scenetta durante questo periodo di atelizio per le persone anziane, per i disabili che sono ricoverati in questo centro. Ad ultimare poi, sempre da questa cooperativa del centro ricreativo, ci sarà una gita, visita a Cartagerone e al presepe di Mineo e qualche altra iniziativa, sempre che nascerà dal cuore, con la speranza che i tempi cambieranno, i tempi migliori, aspettiamo.